Anticipazioni tempesta d'amore, trama puntate, martedì, 7 giugno 2022. Per ottenere finalmente l'approvazione definitiva di Christophe, André decide di recarsi da Tina Kessler in Islanda, per seguire un valido corso di cucina. Con il preziosissimo aiuto della sua amica, l'uomo punta a diventare maestro chef, in modo da poter servire ogni giorno a Christophe, un menù a due stelle. Werner approva l'idea del fratello, e si prende una piccola vacanza, per accompagnarlo. Jerry va in giro irrequieto tutto il giorno. Eric gli ha fatto credere che il suo braccialetto alla caviglia, è una sorta di pedometro e che riceverà una ricompensa in denaro, se farà tantissimi passi. Quando poi il Vogue rimette il braccialetto per recarsi in tribunale, promette al ragazzo di esaudire un suo grande desiderio. Jerry, inoltre, sta molto male per le condizioni di salute di Florian, che peggiorano di giorno in giorno sempre di più. Maya, intanto, soffre.